Un saluto come sempre ai telespettatori di Pianeta Basket TV, ma naturalmente anche delle nove o dieci televisioni che ci promozionano sul digitale terrestre, ci permettono amici di arrivare in cinque o sei regioni del centro-sud Italia, da tre settimane abbiamo anche la novità del canale nazionale sul 268, attraverso la vostra Smart TV potrete seguirci in tutta Italia. Oh, puntata numero 23 di Chiacchiere da Basket, il rotocalco settimane di informazione sportiva di Pianeta Basket TV, dedicato come sempre, lo saprete, alla squadra campana, in particolare di serie A, di serie B e di B interregionale, ma più in generale al basket campano, al basket nazionale. Oggi, o meglio questa sera, abbiamo valenti ospiti, abbiamo tanta roba, abbiamo veramente tanti protagonisti da ascoltare, quindi magari saremo un po' più celeri noi qui in studio. Intanto vado a salutare debitamente in redazione Andrea Esposito, che è come sempre il mio compagno di ventura, anche in questo ventitresimo appuntamento di Chiacchiere da Basket. Ciao Paolo, bentornati a tutti. Oggi veramente tanta carne al fuoco. Beh sì, ovviamente una puntata molto molto interessante, la numero 23 di Chiacchiere da Basket. Avremo ai nostri microfoni tantissimi esponenti importanti del basket campano e non. E poi nella seconda parte, naturalmente nella B nazionale, avremo anche la possibilità con un giocatore di una formazione campana di poter analizzare il momento delle quattro squadre campane. Breve parentesi anche per quanto riguarda la B interregionale, come facciamo ormai da tre o quattro settimane. Ma andiamo subito a parlare del campionato italiano di basket, che è tornato prepotentemente dopo circa tre settimane di pausa, prima per la Coppa Italia, vinta dalla Gemini Napoli basket e poi per i due impegni della Nazionale di Pozzecco, entrambi vincenti e importanti. con Turchia e Ungheria. Ora rimane l'ostacolo Islanda, ma l'Italia ha più che un piede nei prossimi europei dell'estate del 2025, che si giocheranno in quattro località diverse, saranno veramente un qualcosa di europeo a tutti i livelli, anche per quanto riguarda la partecipazione delle varie formazioni, non solo, ma anche delle località dove si giocherà. Andrea, andiamo con questo ventunesimo turno. Il risultato è iniziato con questo ventunesimo turno la terza parte della stagione regolare dell'NBA, il cosiddetto rascio finale. Il rascio finale della stagione regolare. ventunesimo turno che si è aperto in anticipo con la vittoria interna sudatissima di Reggio Emilia su Trento, 77 e 75. Nel primo dei due lanci match domenicali c'è la grande sorpresa della settimana, la prima delle due. Sassari tra le Muramiche batte la Virtus Bologna, incerottata con Tossini ed Eurolega 93-88. Nel secondo lancio match la Gemini Napoli Basket in campionato torna alla vittoria ai danni di Treviso al 95-81. La domenica pomeriggio vede una netta vittoria nel derby Lombardo tra Milano e Barese dell'Olimpia 94-63 con poi il pomeriggio che continua Brindisi batte in casa Cremona 79-76, blitz esterno netto e perentore della Rear Venezia su Scafati 66-95. Tra le Muramiche Pistoia torna la vittoria ai danni di Tortona 84-71, turno che si è concluso con la vittoria pesantissima in coda alla classifica di Pesaro su Brescia 93-83. Questa la seconda grande sorpresa del ventunesimo turno. La classifica, Paolo, rapidamente vede Brescia ancora al comando a 32 punti, tralonata dalla coppia dal trio formato da Milano, Rear Venezia e Bologna. Quinta e sesta piazza vede appagliata a 24 punti Reggio Emilia e Napoli. Chiude ad oggi il lotto playoff Pistoia e Tortona a 20 punti. A 20 punti però abbiamo anche Scafati e Trento in rispettivamente nona e decima piazza. Le ultime tre posizioni, Paolo, quelle calde nella zona per la salvezza, vedono Pesaro attualmente salva a 12 punti, poi quindicesima e sedicesima piazza affidate a Treviso, sempre a 12 punti e Brindisi a 10 punti. Un campionato sempre più equilibrato sia in testa che in coda, anche se forse in testa le prime quattro continuano a fare una stagione un po' a sé. Grande lotta per entrare nei playoff con Napoli e Reggio Emilia che hanno fatto un bel passo in avanti, dopo naturalmente aver approfittato anche le sfitte di Scafati e di Tortona, Tortona che ha perso un match molto importante in funzione playoff proprio in quel di Pistoia. Anche Cremona ha perso fuori casa. Insomma, un campionato che si conferma molto equilibrato e dove ogni squadra può perdere con chiunque. Lo ha dimostrato anche Brescia che è andato a perdere in quel di Pesaro, Pesaro che logicamente con il nuovo nesso di mercato, giocatore veramente importante, ha dimostrato di essere sicuramente una squadra che può crescere ulteriormente. Dicevo, grande lotta in testa alla classifica per accapararsi probabilmente il primo posto, grande lotta dal quinto al decimo posto per entrare nei playoff, grande lotta tra le ultime tre squadre per evitare i due posti che purtroppo significherebbero, gli ultimi due posti che significherebbero il deglassamento in Serie A2. Quindi un campionato avvincente e molto importante. Passiamo però alle squadre campane. Iniziamo dalla Gemi Napoli Basket che logicamente veniva dal triunfo in Coppa Italia, debitamente festeggiato anche in quel del Palabarbuto. Si è giocato in orario insolito alle 12.30 perché in serata c'era il big match di calcio tra Napoli e Juventus, grande festa al Palabarbuto, grande festa anche sul parquet perché dopo tre sconfitte consecutive la Gemi Napoli Basket è tornata alla vittoria battendo una coriacea Nutribullet Treviso che ha fatto una buona partita soprattutto nei primi tre quarti, poi nel finale un po' penalizzata dai falli e da alcune uscite importanti. Il proprio roster ha finito con soccombere ad un Michael Brown da 31 punti, MVP tra l'altro della giornata. Un ottimo Zubicic e anche un Sokolowski che da due o tre partite sta dimostrando di essere un giocatore, un punto fermo, un punto cardine dello scacchiere di Kocinic. Andiamo, raccontaci brevemente questa partita che ha visto l'inizio molto buono di Napoli, poi il ritorno con un 20-0 prepotente di Treviso, partita equilibrata fino al trentacinquesimo, poi la finale proprio di Michael Brown, Zubicic e Dennis anche molto positivo, hanno fatto sì insieme a Sokolowski che la Gemi Napoli Basket portasse a casa come ho scritto anche sul giornale una vittoria preziosa, no? Sì, parlo due punti dal preso specifico che inizia ad essere davvero importante in ottica playoff. Dicevi bene un Michael Brown MVP del ventunesimo turno, pochi minuti prima della nostra registrazione è uscita al comunicato officiale della Lega, Michael Brown che per la terza volta vede con i suoi trentun punti un giocatore di Napoli sfondare quota appunto trenta punti, era successo a Dennis e a Pullen nel corso della stagione. Un altro dato statistico singolare che ha come personaggio Michael Brown, come protagonista, meglio Michael Brown, sono i sedici su sedici tiri liberi, una prestazione davvero importantissima, un cento per cento oserei dire storico. Perché Paolo? Perché soltanto l'ingreer nella stagione del 2005-2006 ha fatto meglio di Michael Brown, fermandosi però a delle percentuali non totali come quella appunto del cento per cento della lunetta. Ci aiuta qui la grafica in questo reminder storico con il mai dimenticato l'ingreer da parte dei tifosi partenopei. Paolo, la partita come dicevi tu, è stata una partita nervosa, non aiutata diciamo da un po' di nervosismo latente che si è poi dimostrato in alcune circostanze che, ricordavi tu, hanno limitato alcune rotazioni di Treviso che vedeva già out mezzanotte nello spot dei lunghi. Napoli ha avuto problemi di falli sia per Ennis che per Tariq Ovens, quindi l'ossatura principale del puntetto base. Questo non ha impedito a Napoli di poter ancora una volta confermare il trend positivo durante tutto l'alto della stagione di un differenziale, punti segnati subiti davvero straordinario nella seconda metà di partita. Anche domenica a ora di pranzo il parziale di terzo e quarto quarto recita un eloquente 58-37 a vantaggio di Napoli. Questo ovviamente è un quid in più che nelle partite combattute difficili, spigolose come quelle di domenica torna sempre utile. Bene, allora ascoltiamo Coach Milicic nell'analisi di questa partita vinta dalla sua squadra. Gevi che, ripeto, è ritornata alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive in campionato, che soprattutto poi ha degnamente festeggiato prima, durante e dopo la partita, la vittoria prestigiosa della Coppa Italia duemila e ventiquattro ottenuta alla Inalpi Arena di Torino due settimane orsuna. Ascoltiamo quindi Coach Milicic. Adesso solo sento. Sento questo momento. Momento a palazzetta, momento a spagliatoio, momento a città. Questo è il buono momento. E parliamo niente. Bene. No. 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 We all live big with heart and with energy that we put on this work. Not only Jakob on the side, not only assistant coaches, but also Matija, medical staff, Pedro and management. Everybody lives. Lives this, what we're doing. We work really hard and we made big surprise. This is not normal what we did in Torino. This is a huge surprise. But we are happy. We work for this. That can happen. And we believe in miracles. So we made one miracle and this game was it was mentally tough and physically tough. Because at the end of the February, we were totally wasted physically and mentally. And then came Cup, which really flattened us like a balloon. And then I give the guys seven days off. So in this moment we are not physically prepared. But they won it. We came back with mentality of winning mentality. Like you see here. We're right. We don't play. We win. Even when we lose. Remember against Bresch. I know that my players give all. We made mistakes. We didn't follow the tactics. But we want to give all out. And then even if the score is not for us, we can say that we win. So today we happily for us, we find the solutions how to score. Because we didn't share the ball good the first half. And second half we shared ball better. We were more aggressive to attack. And our defense definitely gave us this confidence to come back and win a game in front of this great crowd. I'm sure. Possiamo credere nei miracoli e ne abbiamo fatto succedere uno, ma è stato attraverso il lavoro. Bene, allora dopo aver ascoltato coach Milicic, Andrea, prima di presentare logicamente il prossimo impegno di Napoli, che la vede a Casal Monferrato domenica prossima contro Tortona, squadra davvero molto pericolosa e che veniva da un filotto di vittorie importanti interrotto proprio in quel di Pistoia. Pistoia si conferma fra le murami che squadra era veramente difficile da battere, ha battuto tante grandi, ha battuto Napoli, ha battuto anche Tortona, di conseguenza giocare a Pistoia è difficile per tutti. Pistoia si conferma fra le muramiche del Palacarrara una squadra veramente insidiosa e lo ha confermato anche con Tortona. Quindi prima che tu presenti il match con Tortona, gli uomini di Tortona condotti abilmente da De Raffaele che ha sostituito da circa un mese qualcosa coach Lamondino che abbiamo avuto ospite tre settimane o sono, lo salutiamo, caro amico di Chiacchie da Basket di Pianeta Basket TV. Prima però di presentare il match con Tortona dobbiamo presentare anche il nostro ospite di questa puntata, dobbiamo ascoltarlo nelle sue prime battute soprattutto su quel che ci ha detto su Napoli, sulle sue condizioni di salute, direi di ascoltare coach Pino Stefano Sacripanti come volete insomma ai nostri microfoni, lo ascoltiamo in questa parentesi dedicata al suo stato di salute e poi logicamente a suo giudizio su Napoli che tra l'altro è stata anche la sua ex squadra fino a qualche tempo fa. Ascoltiamo quindi anche Pino Sacripanti, lo ripetiamo, questa è una puntata densa eh di di ospiti e di interventi e quindi eh non vi annueremo io e Andrea andremo a spaziare il più possibile anche con altri ospiti. Quindi ascoltiamo Pino Sacripanti su Napoli e sulle sue condizioni di salute eh pare che si sia prontamente ripreso e questo ci fa molto molto bene sia pronto magari per rientrare subito in eh pista magari in qualche nuova formazione. Pino Sacripanti. Beh io intanto grazie per la domanda io sto molto bene mi sono ripreso al cento per cento diciamo che sono come nuovo eh ho fatto due piccole operazioncine per i calcoli renali per qualche problema che ho avuto e adesso ho risolto completamente tutto quindi ehm dopo aver fatto un periodo di diciamo di riabilitazione se così si può dire eh di degenza mi sono riposato un attimo e adesso sto benissimo vado in giro per i campi a vedere le partite seguo eh in televisione tutte le partite che ci possono essere eh così sperando in una in una buona collocazione per l'anno prossimo pronto per ripartire. Beh io credo intanto insomma che è una bella cosa che Napoli che insomma dopo la grandissima scalata societaria e di e di classifica che ha fatto perché io ricordo quando andai a Napoli eravamo ultimi in a due ci fu la vittoria poi della Coppa Italia la promozione due anni di grande sofferenza per rimanere in a uno e adesso questa proprietà che ha veramente eh questa grande ambizione che questo grande progetto nel far diventare la città di Napoli un punto importante per la paracanestro ci è riuscita con la Coppa Italia e penso e spero che sia il primo passo di tanti lunghi successi e di tanta permanenza e poi soprattutto la Coppa Italia ha fatto vedere una cosa come lo sta facendo vedere il campionato cioè che tutti quanti eravamo pronti eh nell'essere così abituati eh a un'altra sfida tra Milano e Bologna Milano e Bologna Bologna e Milano in verità in classifica del campionato italiano eh è Brescia che che farà padrona e e la Coppa Italia l'ha vinta Napoli quindi diciamo che la grande ambizione di queste due squadre hanno anche sollecitato eh altre società nell'investire nel fare dei progetti importanti e questo il fatto che non ci sia esclusivamente questo potere di solo due società fa molto bene alla pallacanestro italiana è chiaro lo sappiamo tutti che sono due due squadre impegnate anche nella Lega che portano via eh che porta via tantissima energia però intanto eh la Coppa Italia non è andata né a Milano né a Bologna e in campionato Brescia sta facendo molto bene Venezia sta facendo molto bene e altre squadre si stanno eh così battendo ad armi pari con queste due corazzate Allora abbiamo ascoltato anche Pino Sacripanti Andrea possiamo concludere il capitolo Napoli esaustivo abbiamo ascoltato Milici abbiamo ascoltato anche l'opinione di Pino Sacripanti su Napoli su quel che è stato la Coppa Italia la bella cavalcata di Torino e anche la vittoria contro la Nutribal di Trevi solo ci promettiamo al ventiduesimo turno domenica c'è un cliente scomodo che è Tortona di Cocce De Raffaele presentaci brevemente la formazione piemontese che gioca a Casal Monferrato ancora per poco perché pare che il palazzetto nuovo di Tortona sia pronto eh a a breve insomma entro probabilmente l'estate quindi a te la presentazione di questo match importante per entrambe le formazioni vincere per Napoli in quel di Casal Monferrato sarebbe secondo me ipotecare quantomeno un quinto sesto posto ehm vincere per Tortona sarebbe continuare a inseguire una posizione playoff che sicuramente come roster merita la formazione bianconera ripeto piemontese Sì Paolo dicevi bene già nella gara d'andata Napoli aveva affrontato una Tortona che stava eh iniziando il suo questo periodo di trasformazione era arrivato da pochissimi giorni secondo me era proprio l'esordio stagionale di Cocce De Raffaele qualche giorno prima era stato preceduto dalla firma di Colby Ross a questi due grandi colpi in entrata si è aggiunto per un terzo qualche settimana dopo la gara d'andata ovvero l'arrivo in prestito da Milano del pivot giovanissimo ma molto talentuoso Camagate sotto canistro questo e poi soprattutto direi anche il recupero di Dav che è un giocatore molto importante per loro assolutamente sì a questo ha permesso a Tortona di rimescodare le carte ovviamente in un periodo così eh pieno di impegni e di eh diciamo eh impegni nella rincorsa verso un lotto playoff con una squadra importante e prestigiosa come si è dimostrato Tortona negli ultimi anni ha un po' pagato Dazio in quelle situazioni come ricordavi bene tu qualche minuto fa affrontando una squadra che aveva sicuramente meno talento della Tortona attuale ma più rodata e più pronta come Pistoia alla fine questo è stato un un intoppo importante la Tortona che si accingerà ad ospitare Napoli nel prossimo weekend è una squadra molto muscolare molto atletica dicevi tu di Chris Dow ma anche una condizione in netto miglioramento di tanti altri giocatori che hanno tirato un po' la carretta passami la forzatura nella prima parte di stagione caratterizzata dal più impegno anche in Europa Paolo è una partita molto importante lo dicevi tu Tortona sta rincorrendo qualche volta inciampa altre partite si dimostra essere una squadra molto molto fisica e aggressiva Napoli inizia a coltivare quell'idea di avere sulla propria racchetta qualche match point importante da qui alle prossime settimane sì ricordiamo che Napoli dopo la trasferta di Casal Monferrato giocherà in casa contro Pistoia poi affronterà Milano e terminerà questo lungo mese di marzo nel sabato prepasquale in casa con Venezia quindi quattro partite veramente molto molto importanti per Napoli che potrebbero dire la lunga sull'inserimento nella zona playoff e in che posizione Napoli possa naturalmente affrontare i prossimi playoff ricordo Wims Thomas per ricordare ancora altri giocatori del rosser bianco nero quindi Tortona è veramente una squadra insidiosa ci vorrà la migliore Napoli una Napoli molto concentrata per avere la meglio dei piemontesi e vedremo cosa succederà possiamo concludere quindi il capitolo Napoli passiamo al capitolo Scafati sconfitta pesante Venezia questo rientra nuovamente il gioco delle squadre che hanno terminato le coppe e che sono probabilmente adesso rodate meglio perché hanno a disposizione una settimana intera per gli allenamenti è il caso di Tortona che ha terminato le coppe credo un mesetto fa è il caso di Venezia che l'ha terminata poco prima della sozza perché appunto la squadra purtroppo Lagunare è stata eliminata dall'Euro Cup a Scafati insomma Venezia ha dimostrato di essere una squadra di ottimo lignaggio giocatori in doppia cifra a go go questo Wilcher veramente in formato quasi NBA Taker insomma poi i tessitori sotto canestro ha nominato la danza contro una Girova Scafati che non è mai riuscita a imporre il proprio ritmo è in questo momento anche un po' in evoluzione l'inserimento di Jerry Blacks che però è stato positivo contro Venezia le non perfette condizioni fisiche di Gentile e la serata non brillante di Rivers e Pinkins hanno fatto sì insomma che Scafati patisse oltremodo Heidegger, Tucker, Wilcher, Tessitori, Spisso e compagni e ne venisse fuori un risultato punitivo per la formazione giallo-blu un 95-66 che non lascia scampo praticamente la partita è durata poco più di un tempo poi per il resto è stato un monologo veneziano con Scafati sempre a cercare di rincorrere in maniera anche molte volte farraginosa lo ha riconosciuto anche Boniccioli la tua opinione poi ascoltiamo proprio Boniccioli Sì Paolo, rapidissimamente non vogliamo togliere spazio al coach Boniccioli e ad un'altra parentesi molto importante l'intervista esclusiva che abbiamo fatto con Pino Sacripanti che ha avuto un passaggio molto importante su Scafati e sulla gestione Longobardi Tucurro, possiamo dire così Paolo, la sconfitta nel modo in cui è maturata secondo me punisce oltremodo la Givova una Givova che in seguito anche alla decisione almeno fino a questo momento ne parliamo anche con Bucchi settimana scorsa di non intervenire pesantemente sul mercato accantonato all'arrivo di Jerry Blakes nell'immediato post di Odi Lugan questa Scafati con questo assetto anche di Stelnix che è molto importante esatto due esterni molto interessanti due esterni di esperienza che hanno nel loro bagaglio tantissimi numeri a cui è difficile rinunciare Stelnix ha giocato l'Eurolega Logan lo conosciamo ha calcato i migliori campi europei e italiani insomma sostituirli non è facile Blakes è un buon giocatore lo ha dimostrato dal tiro mortifero soprattutto dalla lunga distanza però probabilmente forse ci vuole qualcosa in più non so esatto Paolo dicevo al giorno d'oggi Scafati non può prescindere da un Alessandro Gentile al 100% della propria condizione fisica aveva chiuso la parte pre-sosta in affanno ha iniziato la ripresa di questo rush finale come dicevamo in apertura con qualche cerotto di troppo diciamola così adesso dopo anche un Borricioli molto chiaro perentorio e netto nella conferenza post partita c'è stato un confronto anche con la società nell'immediato post gara adesso c'è da ripartire con la mente sgombra perché forse ha Scafati conoscendo un po' la piazza dopo questo weekend qualcuno si sta iniziando a guardare alle spalle però la volontà di guardare avanti con la griglia pre-off ancora da completare per me è la strada principale da perseguire ascoltiamo proprio coach Boniccioli sicuramente non contento della prestazione della sua squadra lo ascoltiamo quindi nella conferenza post gara e poi ritorniamo in studio per il futuro di Scafati che vedo qui dal calendario è altrettanto importante e difficile come quello di Napoli con squadre veramente difficili da affrontare ascoltiamo però Boniccioli allora fatti i doverosi complimenti a Venezia che ha dimostrato di essere una delle quattro squadre più forti del campionato mi scuso con tutti i giornalisti per il ritardo gravissimo che ho avuto in conferenza stampa ma è chiaro che abbiamo ritenuto opportuno innanzitutto parlare con la squadra e poi parlare con il proprietario di una cosa soltanto abbiamo parlato non della vittoria e della sconfitta ma dell'atteggiamento l'atteggiamento è un atteggiamento molto negativo è un atteggiamento che offende perché le persone che vengono a vederci sono persone che lavorano tutta la settimana e siano probabilmente un capo ufficio che diciamo così di pressa e noi non possiamo permetterci di giocare così arrendevoli abbiamo un proprietario che investe per il quale non possiamo permettersi di avere un atteggiamento di questo genere ed è l'unica cosa che conta perché poi dopo questa partita l'avessimo persa di un punto saremmo sempre 10-20-11 perse credo ancora tuttora nei play-off quindi il problema è l'atteggiamento è un atteggiamento molto negativo non giustificabile per una squadra che ha fatto tre settimane di lavoro durante la pausa di grande qualità e che alla prima mezza difficoltà si è resa mettendo su facce da funerale che non avevano senso di esistere ho ricordato ai giocatori che in un inizio dei momenti in cui siamo riusciti a coinvolgere il pubblico che ringrazio ancora una volta oggi per la pazienza altre volte per il supporto oggi per la pazienza che siamo riusciti ad accendere il pubblico è stato quando abbiamo avuto una reazione non accettare di essere presi a sberle da una squadra sicuramente più forte di noi allenata da un allenatore sicuramente più bravo di me però l'atteggiamento è inaccettabile ed è preoccupante è inaccettabile ed è preoccupante perché se siamo arrivati alla 21esima giornata di campionato e abbiamo di nuovo dopo una serie di partite giocate con dignità e con coraggio una ricaduta di questo genere non so se possiamo attribuire tutto l'effetto così negativo di questa partita solo e soltanto a tre settimane di inattività che sicuramente hanno pesato perché è chiaro che condividevamo adesso con il proprietario il fatto che andati alla Virtus Bologna tre settimane fa senza Gentile, senza Blakes con uno streni ex in evidente difficoltà fino a che abbiamo avuto energie e risorse eravamo quattro punti sotto a cinque minuti alla fine del terzo quarto a Bologna contro la Virtus vuol dire che c'era qualche cosa che si è sparito tutto in tre settimane mi fa una rabbia che voi non potete capire non conosco altri sistemi che il lavoro perché non sono uno psicanalista non sono uno psicologo ma richiamare i giocatori come spesso dico a loro e poi mi concludo noi abbiamo tanti diritti noi sportivi professionisti abbiamo tanti diritti e molto spesso quando rinchiamo i nostri diritti ci dimentichiamo i nostri doveri abbiamo diritto di essere pagati in orario di essere assistiti alla società come siamo molti di questi ragazzi sono stati assistiti alla società non soltanto nella loro vita professionale ma anche nella loro vita personale e familiare e qui non è necessario che aggiunga altro però abbiamo dei doveri e i doveri sono quelli di rispettare il lavoro che facciamo rispettare lo stipendio che prendiamo rispettare le persone che vengono a vederci oggi questo è stato fatto poco con un atteggiamento remissivo che non ha senso di esistere perché si possono perdere le partite anche in una maniera diversa da come si è perso questa sera per cui mi dispiace veramente molto veramente molto per le tante persone che ci vogliono bene e che hanno finito la partita comunque cantando e sono assolutamente certo del fatto che questa partita ci servirà da questo ulteriore sberla dopo un periodo complessivamente positivo pensate che arrivando a questa partita avevamo tre vinte e due perse esattamente come la Raya e vinte quando avevamo vinto noi e perse quando avevamo perso noi quindi era identico era un cammino assolutamente identico e l'atteggiamento è stato un atteggiamento veramente debole, fragile non vuole dire vigliacco ma sicuramente molto molto negativo e di questo mi dispiace per il pubblico, per il proprietario che non si meritavano assolutamente un comportamento del genere dopodiché siccome l'unica cosa che conosco in questo mestiere è fare allenamento ricominciaremo da domani con un video e da martedì a lavorare perché l'unica cosa che conosco per rimettere in condizione i giocatori che adesso a partire da Alessandro Gentile stanno sicuramente pagando tre settimane di inattività vi ringrazio grazie bene abbiamo ascoltato coach Boniccioli sicuramente non contento come avevamo pronosticato della prestazione della sua squadra ora scafati domenica prossima in tarda serata alle 20 va a giocare in quel di Brescia con una Brescia che sarà sicuramente particolarmente arrabbiata dalla sconfitta in quel di Pesaro Brescia che è una signora squadra è una squadra di grandissimo lignaggio Massimburg Bilan Della Valle Petrucelli Cobbins e Gabriel insomma è più che ne metta una squadra veramente lunghissima nel roster capolista tra l'altro a cui Scafati andrà a far visita in una serata sicuramente non delle più facili poi dopo Scafati avrà due partite in casa Andrea Tortona e Brindisi due partite importanti per andare in zona playoff e poi avrà la trasferta di Trento a concludere nel sabato prepasquale quindi anche per Scafati caro Andrea una quattro partite è un marzo veramente importante Tostarello a proposito di Scafati vogliamo ascoltare anche Sacripanti da ex cosa ha detto della squadra che lui ha lasciato poi tra l'altro per motivi di salute quindi con grande rammarico e sicuramente lui è ancora affezionato all'ambiente affezionato alla tifoseria affezionato alla squadra quindi avrà sicuramente parole di grande di grande affetto per la giro ascoltiamo ascoltiamo anche molto sincero Paolo ascoltiamolo sono molto legato a Scafati in questo momento e credo che si stia andando per adesso con un buonissimo campionato perché se era partito per salvarci poi se il patroni il presidente Longobardi con grande ambizione con grande voglia con grande sacrificio ha aggiustato ancora di più la squadra ha cercato di mettere a posto ancora di più si sono visti i risultati si è nella zona playoff adesso è vero c'è stata una battuta d'arresto onestamente così non con una bella partita ma può ma può capitare e soprattutto l'abbandono di David Logan e dell'Etton che ha portato un po' di squilibrio alla squadra non parlo di me perché sarei presuntuoso anche perché Matteo sta facendo un ottimo lavoro però ecco diciamo che che la domenica i miei occhi vanno sempre alla partita di Scafati spero veramente che possa conquistare i playoff e spero che possa essere protagonista è stata fatta una squadra quest'estate con un grandissimo lavoro fatto dal presidente da suo figlio Enrico da Nicola e Giglio dal sottoscritto con gli assistenti c'è stata grandissima partecipazione il presidente è stato ancora più bravo nell'aggiustarla ancora poi purtroppo io ho dovuto abbandonare per motivi proprio fisici però insomma si è già 20 punti adesso e speriamo che la salvezza sia insomma da conquistare a brevissimo e potersela giocare fino in fondo per entrare nelle prime otto sarebbe io credo un grandissimo risultato diciamo che fisicamente sono abbastanza sfigatello e prima o poi doveva succedere uno non lo calcola mai perché uno ci dà sempre dentro non pensa mai di poter sfigurare però oggettivamente io non ce la facevo più ero arrivato un po' al limite poi dovevo operarmi in urgenza e quindi ho preferito e ho dovuto non è che ho preferito per necessità guardare prima tutelare il mio corpo il mio fisico per mettermi a posto all'inizio ti dico la verità non mi è pesato tantissimo perché stavo talmente male che il mio primo pensiero era quello di di guarire di mettermi in forma adesso insomma a vedere gli altri giocare starsene in giro della voglia ti viene ecco poi però cerco di capitalizzare al meglio tutto il tempo che ho l'esposizione sia per riposarmi sia per aggiornarmi e sia anche per andare a curiosare magari allenatori o squadre oppure giocatori che non hai la possibilità di vedere mentre stai lavorando perché pensi esclusivamente alla tua squadra e quindi insomma grazie al cielo finché si vive di basket si sta bene è meglio viverlo in prima persona ma io spero che possa essere una pausa abbastanza breve e spero di poter ritornare al più presto dei campi cioè la stagione successiva bene allora abbiamo ascoltato anche Sacripanti possiamo concludere appunto con il prossimo turno e ripeto le partite che attendono Napoli in quel di Casal Monferrato alle 6 del pomeriggio domenica prossima alle 18 quindi contro appunto Tortona e due ore più tardi Scafati invece in Lombardia in quel del Palaleonessa contro Brescia a te per il prossimo turno 22esimo giornale 22esimo turno che si completa con l'anticipo del sabato con Treviso o Reggio Emilia dicevamo Napoli andrà Piemonte contro Tortona Varese ospiterà Brindisi Reier Venezia Sassari Trento Pesaro Virtus Bologna Emporio Armani Milano big match di cartello del weekend Cremona Pistuia e poi in posticipo Brescia a Scafati penso che possiamo concludere con la serie abbiamo parlato abbondantemente di Napoli e di Scafati abbiamo avuto i post partita di Milicic e di Bonuccioli abbiamo ascoltato con vero piacere anche Stefano Pino Sacripanti che è stato l'ospite di questa nostra puntata numero 23 ora concludiamo la prima parte perché c'è da parlare della binazionale lo faremo tra un po' con un giocatore di una formazione campana nella seconda parte rimanete ancora con noi e con chiacchiere da basket a tra poco ci salutiamo Paolo questa prima parte con i saluti di Pino Sacripanti ai tifosi partenopei scafatesi campani in generale che hanno avuto parole di grande affetto dopo i problemi di salute che ha subito nella scorsa fine di anno detto questo ci vediamo con la seconda parte con un altro grande ospite beh io intanto saluto Paolo con grande affetto poi insomma non ho mai nascosto e lo dice la mia storia che sono particolarmente legato alla campagna a questa terra bellissima meravigliosa ho fatto ho fatto quattro anni a Caserto ho fatto tre anni ad Avellino ho fatto tre anni a Napoli questo è il mio secondo anno a Scafati quindi diciamo che ho conosciuto tifosi di qualsiasi parte di tifoseria anche che magari che si odiavano e magari sarà stato anche così odiato per aver cambiato società però la campagna è troppo bella credo che la pallacanestro purtroppo c'è stato l'abbandono di Avellino e c'è stato l'abbandono di Caserta che adesso sono nelle categorie inferiori però bisogna anche dire e di questo sono fiero di aver contribuito alla grande crescita di Napoli e anche a una salvezza importante come quella di Scafati dell'anno scorso e l'avere instradato così un buon campionato come quello di quest'anno bisogna fare i complimenti alla proprietà napoletana per tutto quello che sta facendo perché si sta dimostrando molto solido soprattutto a lungo raggio e poi io sono particolarmente come dire non allibito però insomma veramente quello che fa da solo Longobardi che tiene da solo in piedi tutta Scafati con chiaramente degli sponsor con della gente che dà la mano però insomma la macchina organizzativa e di soldi e di partecipazione è tutta sua da solo e riuscire in un'impresa così grande l'ho vissuta in prima persona è veramente da fargli grandi complimenti sia Napoli che Scafati devono rendersi conto che hanno un'eccellenza nella pallacanestro e spero che questo possa portare sempre più tifosi alla partita sempre più partecipazione e sempre più bellezza lo sport più bello del mondo aspettando magari il ritorno ancora di Avellino e Casetta quindi un saluto un saluto a tutti i tifosi e tutti i tifosi che quando io sono stato male hanno avuto io ho avuto una partecipazione d'affetto veramente commovente e questo lo dico dai tifosi di Cantù i tifosi di Pesaro dove io ho allenato tifosi di Caserta di Avellino di Napoli di Scafati però sorprendentemente l'ho avuto tanto dai tifosi di Bologna della Virtus dove ho allenato anche lì ma sorprendentemente mi sono arrivati un po' messaggi un po' da tutte le parti da Brescia addirittura da Milano veramente da tante squadre anche che non io non ho allenato e questa è la bellezza del nostro sport mi sono sentito veramente così una parte parte della famiglia di questo movimento cestistico che è veramente bellissimo e che anche voi contribuite ad alimentare ad aiutare con le vostre trasmissioni quindi grazie ancora un saluto a tutti e speriamo di rivedersi presto sui campi seconda parte amici telespettatori del ventitresimo appuntamento con chiacchiere da basket ero toccalco settimane di informazione sportiva di pianeta basket tv ricordo anche le nuove televisioni che ci promozionano su digitale terrestre e anche il canale nazionale 268 che ci promoziona in tutta Italia attraverso l'utilizzo della smart tv seconda parte dedicata come sempre al campionato di serie B nazionale una breve parentesi ci sarà anche sulla B interregionale sulle formazioni campale oh però in questa seconda parte innanzitutto vado ancora a salutare in redazione Andrea Sposito Andrea ciao ciao Paolo stai con noi anche in questa seconda parte e andiamo a salutare l'ospite in questa seconda parte che è il pv della GECO parteno presentatimo Andrea Quarissa ciao Andrea buonasera buonasera a tutti allora Andrea subito andiamo con i risultati di questo ventisettesimo turno se non sbaglio del campionato di serie B nazionale girone A stagione regolare che ormai si sta per esaurire mancano ancora sette partite se non vado errato a te Andrea si Paolo ventisettesimo turno caratterizzato da diverse vittorie in trasferta iniziamo con quella di Piacenza contro Brianza sessantatré settantacinque seguita poi da quella della Aarons Montecatini suddesio cinquantaquattro settantasei e la Virtus Cassino che riesce ad espugnare Rieti tra le muramiche sul fil di sirena crema la meglio su Fiorenzola novantaquattro novantatré altra blizza esterno quella della Piede Livorno su Omegna sessantacinque sessantanove Legnano impone il proprio ritmo su appunto Sant'Antimo ottanta sessantasette ne parleremo tra poco con Andrea appunto Quarisa Libertas Livorno tra le muramiche passeggia su Salerno settantacinquanta così come Avellino nel derby campano su Caserta ottantacinquantasei chiude il turno la vittoria interna dell'altra Montecatini la Gemma su Piombino ottantacinque settantotto Paolo la classifica è davvero molto interessante per quanto riguarda la zona playoff perché se le prime quattro stanno avendo diciamo via libera parlo delle due Livorno e delle due Montecatini nella seconda parte playoff abbiamo Sant'Antimo Brianza Avellino Legnano Piombino Crema e Fiorenzola tutte in due punti davvero un equilibrio oserei dire surreale nella parte bassa della classifica abbiamo Desio a 22 punti Rieti 18 Salerno 13 e Juve Caserta 8 ricordo che la partenope Sant'Antimo la Giaco Partenope Sant'Antimo deve recuperare l'incontro casalingo con la Libertas Livorno il prossimo 9 aprile alle ore 20 e 30 quindi parte 9 Sant'Antimo o meglio Sant'Antimo come preferite o Giaco Sant'Antimo ancora meglio ha una partita da recuperare ed è quinta in questo momento ancora per la classifica Ulsa Avellino con due vittorie consecutive ha recuperato ed è settima in classifica penultima la Virtus Rechi Salerno ultima purtroppo Caserta che continua ad avere grossi grossissimi problemi ne abbiamo parlato la settimana scorsa con un giornalista casertano la situazione non è migliorata purtroppo c'è questo pala piccolo che adesso sarà utilizzato c'è piovuto anche dentro insomma le sfortune non sembrano abbandonare assolutamente Caserta però con Andrea parliamo un po' della classifica Andrea queste quattro che si stanno staccando poi grande lotta per entrare nei playoff voi siete in piena bagarre quinto posto è partita da recuperare Avellino messa anche molto bene con due vittorie consecutive che ne pensi? eh hai detto tutto te una bagarre incredibile guarda ti dico la verità non avrei mai pensato che ci fosse tutto questo equilibrio pensavo che dopo sai lo scollinare di gennaio di solito un po' le classifiche bene o male si assestano verso il basso verso l'alto nella zona mezzana e diciamo che sì campionato molto equilibrato si andrà avanti fino a fine aprile per vedere chi la spunterà sicuramente noi siamo diciamo nella nostra fascia che secondo me è da virgolette fascia d'appartenenza senza nulla togliere le altre squadre chiaramente ce la siamo guadagnata sul campo col sudore gomiti alti petto in fuori sicuramente sarà veramente tanto la parola bagare è la parola più giusta secondo me certo non vedo grosse rivelazioni durante l'arco del campionato mi ha stupito moltissimo Brianza non avrei mai pensato facesse questo tipo di campionato qua visto che comunque sono tutti giovani però squadra garibaldina così alla fine sta là se la giovano con tutte mi dispiace per Caserta riconosco comunque alcuni ragazzi che sono lì Avellino per rimanere in tema campanile è un roster importante è un roster importante Avellino sicuramente ma guarda ti dico guardando il roster e conoscendo alcuni giocatori e sapendo anche la caratura tecnica di altri ero certo che risalisse non poteva fare un campionato di così bassa classifica e per quanto riguarda Sant'Antimo siamo qui parliamo un po' di voi insomma dopo questa battuta adesso di Legnano nulla è compromesso dovete recuperare il match con Livorno siete lì insomma certo adesso queste ultime sette partite sono da combattere tutte con il recupero otto praticamente no? Sì sai alla fine come dicevo prima essendosi tanta bagarre non si può guardare più in là di una partita sicuramente abbiamo una partita da recuperare con una squadra molto in forma come Libertas Livorno che si sta giocando tuttora il secondo posto con Iros Montecati o magari se la PL farà qualche passo falso da qui alla fine si giocherà magari anche il primo posto che ricordiamo per delle piazze così come PL Libertas il primo posto i playoff è tanta tanta roba ragazzi perché bisogna dopo andare a vincere al Palamacchia che sono 3000 persone pronti a sostenere la squadra e pronti anche a mettere paura sportivamente parlando alla squadra avversaria quindi sarà una partita veramente veramente importante per noi le prossime sette partite sì ci giochiamo la stagione ci giochiamo tutto fortunatamente il filotto che abbiamo fatto a gennaio febbraio ci ha portato in questa zona importante di classifica però sai perdi altre due partite sei non dico zona play out però i play off te li sogni capito quindi sai bisogna vedere domenica dopo domenica o sabato dopo sabato a seconda di quando è la partita ma soprattutto bisogna guardare a se stessi non ai risultati delle altre squadre perché un passo falso in questo campionato non è ammesso sì anche la zona play out è molto interessante con Salerno Rieti e Desio insomma è qualche altra formazione quindi anche lì c'è un campionato nel campionato tenendo conto che Caserta ha ancora qualche chance ma deve vincere almeno cinque delle prossime sette partite credo no? sì 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 no guarda assolutamente ti dico adesso Andrea prima diceva bene la classifica e l'ultimo posto play out se memoria non mi inganna è a 24 e a 24 ci sono tre squadre esatto sono tante ragazzi sono veramente tante contando poi che il penultimo posto play out è occupato da Desio a 22 che secondo me Desio sulla carta non è neanche così una brutta squadra da essere quarto ultimo in campionato quindi bisogna fare attenzione ogni settimana perché la diciamo la la sconfitta è veramente dietro l'angolo è un qualcosa io veramente non avevo mai ne ho fatti tanti di campionati di Serie B ma tanti in tutte le formule possibili ma un campionato così equilibrato veramente non lo non lo ricordo non lo ricordo stavo parlando cos'era con Carletto Carletto Cantone questa settimana qua e appunto ci confrontavamo su questo su questo equilibrio incredibile benvenga per il basket italiano poi per carità Carletto Cantone è un altro che di campionati ne ha fatti tanti diciamo e ne ha vinti qualcuno in più rispetto a me no ma poi devo dire sinceramente un campionato anche qualitativamente di buonissimo livello perché con i giocatori non formati in Italia è cresciuto ulteriormente è diventato una vera e propria tre ci sono ci sono dei roster veramente importanti che magari con due americani potrebbero fare la loro figura anche a livello superiore no? Sì sì guarda sono d'accordo poi anche aggiungo un'altra un'altra piccola postilla sempre mio modesto parere è da da giocatore che ne ha viste un po' il fatto che abbiano tolto la regola degli under ai campionati li hanno fatto far così per un semplice motivo la palla canestra è uno sport di meritocrazia se meriti giochi se non performi stai in panchina se l'anno scorso magari avevi tre under i tre under andavano di completamento alla squadra oppure di questi tre uno giocava gli altri due facevano panchina e non crescevano invece facendo la riforma dei campionati B1 B2 hai dato la possibilità ai giovani di oggi di non caricarsi di aspettative caspita ho 19 anni gioco in serie B nazionale ma vai a farti le ossa eventualmente in B2 o vai a fare il protagonista in serie C e poi se ti meriti sali in più avendo comunque liberato dei posti sei andato a prendere i senior più performanti in modo hai da farti un'ottima squadra infatti le prime in classifica hanno 10 giocatori 10 assolutamente è vero senti parliamo del prossimo turno poi a breve parentesi sulla B inter regionale Andrea andiamo a guardare cosa aspetta le squadre campane sicuramente ne penso una giornata non delle più facili andiamo a guardare questo 28esimo turno dai Andrea sì perché diciamo che Sant'Antimo ha preparato il terreno ad Avellino perché sarà la Delfes ad andare a giocare a Legnano una partita molto importante forse tra le due squadre Andrea l'altro corregimi se sbaglio sono le due che hanno un filino deluso sin qui però adesso sono in rimonta sono in risalita e stanno convincendo come forse ci si aspettava da inizio anno detto questo il resto del turno vede Caserta ospitare Rieti ed è inutile dire l'importanza di questa partita ultima spiaggia esatto per la bassa classifica Salerno ospita Omegna e poi Palo la Partenope Sant'Antimo ha un altro importante match a Piacenza eh allora come vedi queste partite iniziamo dalla vostra dai Piacenza trasferta difficile pubblico caldo ambiente caldo eh dai sì campo caldo ambiente caldo squadra bella allenata eh prima di entrare in trasmissione da voi stavo facendo un pochino i compiti così ero preparato eh ho visto che hanno abbastanza tra virgolette svoltato con l'arrivo del nuovo lungo argentino che sta facendo veramente ottime cifre e allora io non vi sbilancio perché sono scaramantico sicuramente eh con una vittoria eh diciamo bussiamo la porta dei playoff e diciamo guardate che ci siamo anche noi fino alla fine con una sconfitta bisogna vedere cosa succederà dietro assolutamente invece per Caserta ultimo appello con Rieti eh se non batte Rieti credo che l'abbinte regionale sia una realtà quasi eh e Caserta a Caserta o a Rieti a Caserta sì sono sono d'accordo sono pienamente d'accordo vediamo vediamo un po' e poi Avellino se spugna Legnano fa un bel passo in avanti eh verso i loro dipende cosa hanno fatto all'andata però se Avellino va 2-0 con Legnano secondo me Avellino è dentro il playoff quindi e poi c'è Salerno che sempre per la zona bassa deve cercare di fare un colpo insomma ma c'è una partita non facile sì assolutamente sì perché Salerno Omenia a Salerno Omenia deve vincere perché se perde è dopo già no no è 24 è già tirata dentro nella bagarre play out quindi è partita molto molto calda Salerno Omenia molto calda tutte partite non facili per le squadre campate breve parentesi per la B2 iniziata la seconda fase playing gold playing silver due vittorie nella playing gold nel derby Sala Consilina ha battuto Angri invece bella vittoria per la Power Salerno nella play in silver purtroppo invece due sconfitte per la Scandone Avellino e anche per il Marigliano nei play out vittoria invece netta del Benevento in Sicilia Colcus Catania l'ultima domanda ad Andrea ad Andrea vi fate i fatti vostri esatto esatto volevo volevo chiedere sono spettacolo volevo chiedere a Acquarisa così evitiamo evitiamo i problemi sei sei in odore di 500 punti segnati in maglia PSA hai già catturato 500 rimbalzi ovviamente tu sei un giocatore che fa dei gomiti alti della grinta il tuo passepartout stai facendo un campionato molto importante insieme ad un altro lungo come Camperidis che si sta dimostrando essere davvero un valore aggiunto per voi abbiamo nominato prima Cantone che è una garanzia Antonio Gallo sta facendo molto bene il coach anche molto bene anche molto bene esatto dai il coach il coach mi sta dando una grande mano in segno di una continuità a partire dall'anno scorso telegrafico perché il tempo non è il nostro amico cosa ci puoi dire di più per questa finale di stagione soprattutto per i tuoi tifosi che ti stanno ascoltando adesso mi metti in tanto difficoltà dicendomi di stringere perché non sono mai stato molto finto ecco no sicuramente i tifosi mi conoscono intanto sono molto orgoglioso di arrivare a superare i 500 e aver già superato i 500 rimbalzi vuol dire che qualcosa di buono l'ho fatto sono molto contento della stagione che sto facendo sia a livello personale sia a livello di squadra quello che posso dire ai tifosi molto semplicemente mi conoscete sapete quello che posso dare alla squadra sapete quanto leader sono all'interno di questa squadra e spero che la squadra mi segua perché vogliamo andare ai playoff vogliamo togliere tante soddisfazioni al popolo del Sant'Antimese vogliamo far capire che Sant'Antimo c'è nel basket nel basket italiano e nel basket italiano che conta abbiamo tracciato un percorso iniziato l'anno scorso sfociato ai playoff e contro contro Rieti arrivando a quarti facendo un campionato di assoluto livello e vogliamo vogliamo ripeterci assolutamente allora a proposito di Sant'Antimo permettimi di ringraziare la dirigenza di Donato e anche il presidente e poi anche l'ufficio stampa con Leo Balletta sempre molto cortese nei nostri confronti grazie Andrea Quarisa grazie ad Andrea Esposito ricordatevi le nostre le nostre pagine su Facebook seguiteci pianeta basket tv seguite naturalmente anche il nostro profilo Instagram iscrivetevi al nostro canale YouTube che sta crescendo pianeta basket tv Andrea fai iscrivere i tuoi amici a pianeta basket tv mi raccomando il canale il canale del basket campano soprattutto dai in bocca al lupo quindi a Andrea Carisi in bocca al lupo alla Geco Parteno presentati ma in bocca al lupo a tutte le formazioni campane e della B interregionale appuntamento la prossima settimana tra sette giorni con la ventiquattresima puntata e come dico ormai sempre da tempo buon basket a tutti ciao buona serata ciao